Rete rete ha segnato Manuele Caporale di testa la terza rete per la Virtus Castelfrendano di testa Manuele Caporale il nostro vice capitano bravo Luca che gli ha dato un pallone molto prezioso viene congratulato dai compagni di squadra 3 a 1 in questo momento 3 a 1 fuori da Virtus Castelfrendano